Salve a tutti, oggi vi presento un nuovo strumento molto semplice e intuitivo che serve per la scrittura collaborativa di testi. Si tratta di Framapad. Framapad fa parte degli strumenti Framasoft e sono strumenti open source, cioè gratuiti e infatti Framasoft è un'organizzazione no profit per l'educazione popolare. Adesso vediamo come funziona Framapad e poi vi mostro perché in questo momento è davvero molto utile e l'uso che ne ho fatto io in questi giorni. Quindi scriviamo Framapad nell'home page, vedete è il primo link e questo è la schermata all'home page di Framapad. Qui in alto ci dice appunto che fa parte di Framasoft, è uno strumento in lingua francese, però noi vedete possiamo impostare la lingua su italiano. Adesso vi faccio vedere come funziona e le strumentalità. Innanzitutto ci dice crea un pad, inizia a scrivere il testo e puoi scrivere, invita ovviamente le persone e ogni partecipante ha un colore diverso e puoi anche chattare. Vediamo subito. Quindi scendiamo qui sotto, qua ci dice crea un pad, dobbiamo dare un nome al nostro pad, quindi noi scriviamo tutorial Framapad. Eccoci qua. Poi possiamo impostare la durata del nostro pad, che può essere un giorno, una settimana, un mese, due mesi, sei mesi, ma anche un anno e questo è davvero molto interessante. Io adesso imposto con un giorno soltanto e poi clicco su crea un pad. Guardate adesso come si presenta la schermata iniziale. Dunque si presenta con già tutta una serie di parole e un testo in francese che ci dà delle indicazioni, noi però lo evidenziamo semplicemente e lo cancelliamo. A questo punto il testo è tutto libero ed è a nostra disposizione. Guardate qui ci sono gli strumenti soliti di editor di testo, quindi il grassetto, il corsivo, il sottolineato, il barrato, l'elenco puntato, numerato e tutto proprio le caratteristiche. Qui invece a destra ci sono gli strumenti diversi. Innanzitutto qua ci sta dicendo che siamo soltanto noi collegati. Cliccando qui sopra io ho scritto il mio nome, si imposta il mio nome perché ho già utilizzato lo strumento, ma ciascun utente collegandosi poi potrà appunto cliccare qui sopra e scrivere il proprio nome e poi cliccando sul colore scegliere un colore che si vuole attribuire. Quindi noi vogliamo un bel giallo per giù. Ecco. E quindi da adesso in poi io scriverò ciao a tutti. Ecco il mio primo messaggio. Quindi altri aspetti interessanti. Qui in basso vedete c'è una chat. Quindi mentre noi scriviamo contemporaneamente sul testo possiamo anche chattare con i vari partecipanti. Dicevamo che ogni utente può entrare all'interno del pad. Ovviamente quando gli abbiamo condiviso semplicemente il link. Infatti qua ci dice condividi e incorpora questo pad. Se io infatti invio questo link, copio e invio questo link, gli utenti che riceveranno il nostro link potranno accedere direttamente al pad e scrivere e collaborare insieme a noi. Possiamo anche dare la spunta di dare invece la condivisione solo in lettura. Andiamo avanti e vediamo gli altri strumenti. Quindi una condivisione semplicissima che è davvero utile per per chi non ha altri tipi di account. Quindi penso ai nostri alunni che magari non hanno appunto una mail giustamente o non c'è una mail istituzionale nel nostro istituto. Questo è uno strumento di scrittura collaborativa semplicissima. Le impostazioni mi dà tutta una serie di strumenti per cui mi può impostare la chat sempre attiva, mi può mostrare la chat agli utenti, mi può indicare i colori che indicano gli autori e così via. Quindi tutta una serie di strumentalità. Mi può salvare la versione. Questo è uno strumento molto interessante che vi faccio vedere tra un po' perché adesso vi mostro anche un esempio. In particolare questo orologio, simbolo dell'orologio, mi fa visualizzare la cronologia del mio pad. Quindi io posso tornare indietro, vedete, e si va modificando fino a riottenere il pad, quindi ancora integro. Questo mi serve ovviamente se ci sono vari utenti che collaborano e che scrivono e quindi posso vedere le modifiche apportate. Poi cliccando qui ritorno sul pad. Eccoci qui. Altro strumento interessante, posso esportare il mio pad in vari formati, tra cui un pdf, per cui se scriviamo un testo in modalità collaborativa, posso anche salvare il mio documento. Ok. Con la toolbar invece possiamo visualizzare quante righe, quanti caratteri, quante parole abbiamo scritto quante parole, 8 parole, quanti caratteri, quanti, quanti caratteri e poi l'ultimo strumento che vediamo qui, molto interessante perché permette, chiudiamo questo, permette di avviare una video chat. Quindi cliccando con questo io do il consenso alla mia webcam, eccomi qui e come vedete posso interagire con i miei ragazzi, quindi posso vedere quindi da una parte il testo che si va componendo e dall'altra posso fare una video chat. Chiudendo la chat ci ritroviamo all'interno del nostro Framapad, del nostro testo condiviso. Quindi davvero degli strumenti molto molto interessanti per questa scrittura collaborativa. Adesso come vi dicevo vi faccio vedere come l'ho utilizzato io in questi giorni. L'altro giorno la connessione era molto difficoltosa quando facevamo la video chat, quindi abbiamo aperto un pad e abbiamo iniziato a scrivere insieme. La lezione era di grammatica, quindi come vedete abbiamo, ci sono dei colori diversi perché i miei alunni hanno scritto con colori diversi, erano utenti diversi e noi abbiamo svolto una parte degli esercizi di grammatica tutti insieme, poi ci siamo dati appuntamento, ci siamo anche un po' divertiti, loro scrivevano i commenti, si molto bene se facevano gli esercizi correttamente, quindi è stato un modo molto carino per intervenire in una lezione in tempo reale, seppure a distanza. Quindi spero di avervi fornito un po' di idee, un po' di suggerimenti per attuare appunto questa famosa didattica a distanza. Vi volevo far vedere l'ultima cosa che era quella della cronologia, così vi faccio vedere come risulta la cronologia, adesso forse è anche più evidente. Vedete che ci dice versione salvata il 5 di marzo, guardate quanti erano i ragazzi connessi e se io torno indietro appunto si vanno modificando, in questo momento non si vede perché il testo, ecco adesso comincio a vedere, che scompaiono gli interventi oppure ricompaiono. Questo è interessante perché noi la prossima volta che faremo grammatica ci ricollegheremo sul nostro pad mantenendo lo stesso link e la stessa appunto condivisione potremo andare avanti con i nostri esercizi, con le nostre attività, oppure pensare perché no di scrivere una storia e di lavorare sulla scrittura. Davvero spero di avervi dato uno spunto nuovo. A tutti buona serata, salve a tutti!